ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video con un po di ritardo perché in realtà mercoledì scorso non ho pubblicato nessun video niente io sono in toscana a follonica e ne approfitto per ambientarmi un po con l'ambiente toscano e in particolare oggi vi porto a cala violina e non so se tutti la conoscete cala violina praticamente è una spiaggia che c'è qua poco dopo folloni che è in direzione di grosseto è una zona piena zeppa di singletrack di ogni tipo e parliamo in questa fantastica spiaggia che è una specie di paradiso della zona ce la godiamo anche se la giornata non è proprio delle migliori ma perché no facciamo un giro ecco c'è l'entrata del sentiero che porta cala violina uno dei tanti qui c'è questo sentiero che costeggia la strada che vedete a sinistra che ci porta a entrare proprio a cala violina cioè cala violina in realtà nella zona di cala violina cioè guardate che roba pazzesco è tipo il sentiero dei sogni e tra un po si scende anche qui inizia la parte molto divertente tutta curve e le lanci è anche ottimo per allenarsi vabbè oggi io raga mi sto facendo un girettino di scarico tranquillo quindi diciamo che ciao grazie diciamo che viaggio quella viaggio tranquillo attraversiamo una bella taglia a fuoco che da sempre fare un po di occhio alle persone a piedi o in bici perché c'è sempre un gran via vai qua qui anche qualche pezzo tecnico c'è molto divertente per per allenare un po la tecnica ma poi che spettacolo fa tuttissima pulita come sempre in questi video non ve l'ho ancora detto ma se non vi siete ancora iscritti al canale potete iscrivervi cliccando sotto dove siete iscriviti e magari attivate anche la campanella e continuate a seguirmi ci divertiamo e visitiamo un po di posti insieme tra l'altro adesso arriverà l'off season poi l'inverno e ci sarà da divertirsi perché ho parecchi posti in mente da farvi vedere ma papà 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 sogniamo non c'è un classo sinistra passaggino tecnico per evitare di scendere e poi si rilancia se qualcuno di voi ha già girato da queste parti punta alaca la violina massa marittima fatemelo sapere ovviamente commentate leggo sempre tutto e se avete qualche posto da consigliarmi eventualmente posso andare a girarci poi poi ci sono questi pezzi qua da spingere il rapportone è pieno di sentieri poi tutte le strade portano praticamente al mare però è facile incrociarsi più volte trovare mille mille alternative mille vie possibili per arrivare giù a cala violina mamma mia velocissimo sto pezzo ciao grazie tronco mi sa proprio che oggi c'è alta marea che la gopro scarica mi sto riprendendo col telefono siamo a cala violina spettacolo bellissimo non l'avevo mai vista con la marea così alta e non c'è nessuno chiaramente ah qualcuno là c'è quindi ragazzi che dire da questo video direi che è tutto spero che vi siano piaciuti i sentieri di cala violina con uno sfondo con l'isola d'elba probabilmente voi non lo riuscite a vedere ma è laggiù questo meteo è un po' così che però devo dire che ha il suo fascino vi saluto e noi ci vediamo nel prossimo video ciao belli